C'è la data per le elezioni amministrative 2017. Il ministro dell'interno Marco Minniti ha fissato con proprio decreto per domenica 11 giugno lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a saluto ordinario. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci si dirà due settimane dopo ovvero domenica 25 giugno. Fra i quattro capologhi di regione dove gli elettori saranno chiamati a tornare alle urne spicca l'Aquila. Sul territorio provinciale il comune con più alta densità che Balvoto è quello di Avezzano, 40.744 elettori, il sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio. Nel centro Abruzzo si vota Barrea, Campo di Giove, Civitella Alfedena, Pescasseroli e Prato La Peligna, quasi 8.000 abitanti e un amministratore Antonio De Crescentis che in un colpo solo perderà due cariche, quella di sindaco e di presidente della provincia. E' proprio nel centro Peligno che la campagna elettorale è già entrata nel vivo. Sono cinque al momento i candidati in corsa per la fascia da sindaco. Antonella Di Nino, Alessandra Tomassilli, Luana Lulli, Gaetano Di Cioccio e Cesidio d'Alessandro Zazzaretta. Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato all'11 maggio.